E' un criminale senza scrupoli. Ricordi impastati dal trauma dell'abuso e dalle sostanze narcotizzanti. Ma nella mente della coppia, vittima dell'agente immobiliare milanese, Omar Confalonieri, arrestato lo scorso 5 novembre, col passare dei giorni si fa sempre più chiara la consapevolezza della brutalità dell'accaduto. Questa persona è un criminale. In pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, in un bar, ha messo a punto il suo piano senza fermarsi e senza farsi scrupoli. E' con una lettera al giornalista Marco Liva del programma TV Iceberg in onda su un'emittente lombarda che raccontano l'angoscia per il pericolo che hanno corso. Poteva farci qualunque cosa nello stato in cui ci ha redotto, poteva anche ucciderci. Uno di noi ha perso i sensi dopo una manciata di minuti finito il drink. L'altro si è ripreso il giorno seguente. Ma il pensiero più doloroso è che in quelle ore di inferno la figlia piccolissima potrebbe aver assistito alla follia di Confalonieri, che secondo la procura di Milano avrebbe violentato la mamma. Ha fatto tutto davanti a nostra figlia. La certezza per la coppia è che si tratti di un criminale irrecuperabile. Il nostro parere è che vada rinchiuso e tenuto in prigione per tutta la sua vita. Un uomo pericoloso, così lo descrivono i due, marito e moglie, della coppia truffata. Marco Piccaluga, vengo da te in diretta a Milano perché quella che sta emergendo è una serie di vicende analoghe che vedono sempre l'immobiliarista come protagonista. Addirittura una donna adesso ha raccontato di essere stata trattata allo stesso modo e in qualche maniera drogata attraverso un arancino. Mi vuoi spiegare? Purtroppo è così. La cosa più sconvolgente è che si tratta anche in questo caso di una persona che Omar conosceva molto bene. Era addirittura una parente acquisita, a dettaglio questo è ancora più raccapricciante. Lei ha raccontato oggi, una vicenda risale a 2013, di essere stata avvicinata in un negozio. Lui l'avrebbe accompagnata a casa. Durante il tragitto si sarebbe fermata a compagliare degli arancini e la donna sostiene che forse in quel momento ha infilato qualcosa, la droga, la benzodiazepine, all'interno di questi arancini. La donna va a casa con lui, dopodiché si riprende dopo circa dieci ore, si sveglia in stato confusionale, è confusa, si sente male, non ricorda poi molto di quello che è successo, ma il giorno dopo qualche ricordo comincia a riaffiorare. Allora capisce che è successo qualcosa, comincia a mettere a fuoco dei dettagli. L'uomo che è sopra di lei, l'uomo che la tocca, l'uomo che le fa vedere dei video pornografici, lo chiama di fronte ai genitori, regista la telefonata e l'uomo si giustifica dicendo probabilmente siccome io assumo degli ansiolitici ci siamo scambiati il bicchiere e tutti si è sentita male per questo motivo. La persona non convince, la donna vuole spoggere denuncia, fa una visita medica, ma poi rimane con pochi elementi in mano e decide di lasciar perdere. In questi giorni sentendo la storia, l'ultimo dettaglio della storia che avete appena raccontato decide allora di presentarsi per raccontare questa storia e la PM ci ha confermato che purtroppo ci sono altre vicende come questa, almeno tre denunce e loro si aspettano, ci ha detto altre denunce ancora per poter inchiodare definitivamente la propria responsabilità a quest'uomo che a questo punto è chiaramente uno stupatore seriale in modalità che sono anche molto pericolose. Modalità pericolose, modalità seriali, un gelato, un arancino, un drink. Lì veniva messo il narcotico e seguiva l'abuso. Flavia Marimpietri. Modalità che sembrano ripetersi, codificate in un folle copione. L'adescamento della coppia, l'aperitivo, la borsa con i vestiti. Già pronta, preparata con cura, come il piano criminale. Così, secondo gli inquirenti, agiva Omar Confalonieri, 48enne, gente immobiliare, arrestato a Settimo Milanese. Confalonieri è un bimbo di otto mesi, si legge nell'ordinanza. Conosce le sue future vittime all'asilo durante l'inserimento del piccolo e della figlia della coppia, nove mesi, che sarà poi presente in casa durante gli abusi a gattonare in custodita. Lo scambio dei numeri di cellulari, la scusa di alcuni consigli per l'acquisto di un boxauto, l'appuntamento in una pasticceria del quartiere. Confalonieri si fa venire a prendere a casa, non può camminare bene, dice. Al telefono sembra già alticcio. Scende con due borsoni, uno nero, contenente dei gadget erotici, l'altro con vestiti usati, asserendo siano della nipote. Sono quelli con cui vestirà la vittima incosciente dopo averla spogliata. È strano, sudato, la camicia aperta sul petto. Chiede di fermarsi in farmacia. Qui compra un farmaco a base di benzodiazepine con cui drogherà i due e due siringhe. E chiede all'ignaro marito, entrato per comprare vitamina alla bambina, di pagare poiché ha il portafogli a casa. Al bar Confalonieri è nervoso, fuma continuamente, afferra i due spritz dal bancone prima ancora che il barista li abbia terminati e porta i cocktail al tavolo. Questo è per la signora. Ha appena versato il contenuto delle siringhe nei bicchieri. Da quel momento marito e moglie non ricordano più nulla. Non si reggono in piedi. Bar collano, Confalonieri li sorregge. Con la scusa di accompagnarli, si introduce in casa della coppia. Il marito vomita, poi si addormenta. Confalonieri, dalle 13 alle 19, rimane in casa e abusa della donna. Non prima di averle fatto indossare i vestiti che aveva portato con sé nel borsone. Prima uno nero, poi uno beige. Lei non ricorda nulla. Le telecamere immortalano Confalonieri mentre si approfitta di lei, con indosso quei vestiti, quelli della valigia. Ed è così che verranno trovati dai parenti, ore dopo, marito e moglie, accasciati sul letto, privi di memoria, lei con indosso vestiti non suoi.